bella a tutti ragazzi io sono Dr.Beat e oggi siamo con Yerod allora 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 e stiamo con Peppe allora raga stasera tutti e due sono un po' drogati soprattutto Yerod e Peppe a tutti e due drogati vabbè raga che a dire ci vediamo porco due appena stiamo in partita bella ok raga eccoci in partita vabbè buonasera di Yerod ci sta sempre perché sennò non è partita vinta ragazzi sapetelo che cazzo fai Yerod non bestemmiare grazie grazie per la bestemmia non bestemmiare più raga ci hanno fatto gol vabbè ecco raga 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 ho tagliato comunque la parte dove si va a vedere i replay i replay su rocket li taglio ecco raga come sai mi avevo tagliato la parte ah Peppe li guzzano la scelle se non lo sapete bella madonna dai 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 bravo Yerod ok ok raga ok no 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 si come la salva oh raga ce la possiamo fare a recuperare no 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 clients no no noiz eh si beh poi zitto e metterà ah ma ci non sto trave oh raga comunque vi avviso una cosa che forse stasera forse registerò un video di minecraftita con Peppe e Ierod sempre se vogliono venire poi se registro con Lorenzo King normalmente dai 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 non mi tocca un cazzo e le braccia c'è su ieri Peppe vai non il duro dai dai che raga raga scusatemi se qualche volta non parlo ma ok mi concentro una volta con la Ierod vabbè raga oh ragazzo a mezzo il replay ve lo lascio perchè l'ha fatto Ierod e me l'ha chiesto quindi lo lascio oh no bravo Peppe ma se lo sassate lo sassate ma bella oh raga guarda io la metto in mezzo quando il turbo vabbè poi ma dimora ierod mananza era ok c'è eh raga e si fa gol la pizzeria San Gennaro ancora ora siamo a fine partita vediamo che riusciremo a fare in un secondo no raga avete visto se stiamo facendo un gol all'ultimo secondo vabbè raga che dire per questo video è tutto commentate condividete lasciate like qui da dr.beat peppe è tutto è bella raga vi ho trollato ma l'episodio non finisce qua adesso andiamo a fare una una partita rissa 3v3 vabbè raga ci vediamo in partita se io ho lo strano di io vi ho detto voi lo vedete punti per il posto io la prendo e la tiro ah ok vabbè ci vediamo in partita bella ok ok raga siamo in partita aspetta no niente raga stavo dicendo ci vediamo appena entro ma sono entrati subito buonasera iniziamo proprio bene no no raga primo gol fatto avete letto il replay come sempre no 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 che peccato no io ho detto che il cacchio ha fatto ce l'ho fatto apposta no peppe eh no non è peppa peppe peppati peppati peppo peppo peppe che cacchio stai impacendo eh oh cacchio è bravo questo raga che ragazza che è persa non lo prometti ah ma no raga mi si è portata ok oh raga comunque vi ricordo che mi dovete scrivere nei comment di di chi volete nel gruppo nel gruppo di minecraftita se ne scegliete a jeroz o a peppe vabbè però se ne scegliete uno sempre faremo qualche episodio speciale tipo come come sempre tipo vieni certo a jeroz però tipo se scegliete uno tipo scegliete a peppe tipo poi come speciale sarà jeroz e qualcun altro vabbè raga avete capito ecco raga ecco raga ma pugna ma pugna è un pixel ah raga scrivetemi nei commenti se volete le badwars insieme a jeroz e a un amico killer player che vi lascio in descrizione il suo canale se mi ricordo di fare raga ciccata stura 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 ora io mi prendo il turno è questa la giornata stura stura guarda ma ti sei man ecco qua eh raga però mi sa che tipo c'è Peppe 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 può pure venire nella serie di minecraft è solo che deve giocare tipo quando le giziamo deve giocare con noi quindi non so se Se è meglio Io ero do Peppe Vabbè raga Dove ho detto solo questo Perché Peppe vuole giocare sempre a Rocket In pratica Se volete sapere che le sono Adesso Se volete sapere quando abbiamo registrato sto video Quando lo stiamo registrando Lo stiamo registrando alle ore Alle 11 meno 10 Ospino Vcf 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 Dei vlog Tipo quando vado in bicicletta No inizio a laggiare il server No veramente io la dina sto laggando Raga schieratemi se volete vlog Tipo quando vado in bicicletta Mi porto laggo pro No No veramente c'è C'è l'ho Ah no Soprattutto scrivetemi anche se volete Delle Delle Tipo Come posso dire raga Delle collaborazioni Con i miei amici Delle collaborazioni con i miei amici Tipo Killer player Tipo Nelle challenge Però C'è Sono killer player Oppure altri miei amici Che hanno Meno 30 iscritti Però Tranne Lorenzo King Perché Lorenzo King Come sapete È di Catania E so di Matera I video Se arriviamo a 5 iscritti Vi farò vedere la mia postazione da gaming E ci ho speso 1200 euro No è uno scherzo Potete chiedere pure A questi A questi due ragazzi Che stanno nel party Vero Vero No Eh Che peccato Stavo facendo il pugno col tiro Cioè Gol col tiro Eh Gol col pugno Non so parlare No Bella Peppe Vabbè Peppe con una stampa Vabbè raga Che dire Cioè Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo un chiede che devono fare Ovviamente Comun come il detto Mai cantare vittoria Vabbè Abbiamo vinto Cioè Abbiamo fatto pure Vabbè raga La squadra di Endo Guardate Vabbè Raga Soltano ne un troll Soltano ne un troll Raga Condividete Condividete Lasciate like Commentate E qui da Ieroid Peppe E DrBeat È tutto È Bella 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 Grazie.